Ben trovati, oggi siamo a Pietraligure. A fianco a me c'è Stefano Caldana che è il proprietario di tre strutture alberghiere appunto qui nella località di Ponente. Stefano buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, vogliamo elencare il nome di queste tre strutture di tua proprietà? Innanzitutto l'hotel Villa Marina dove siamo adesso, fronte mare, l'altro albergo è l'hotel sul mare e il terzo albergo è l'hotel Nuovo Bristol che si trovava a 200 metri circa verso l'interno. Perfetto. Stefano, sono 50 anni, mi dicevi, poc'anzi di attività. Sono oltre 50 anni che facciamo questo lavoro. Per cui sono strutture di famiglia, siete arrivati alla terza generazione. Benissimo. Quali sono le caratteristiche di queste tre strutture? Innanzitutto le persone. Per il semplice fatto che preferiamo che le persone si sentano come a casa quando stanno da noi. Poi naturalmente la cucina, la cucina siamo davanti a un mare bellissimo, città del pesce fantastico, quindi più buona di qua difficilmente lo troverete in giro. Il pesce naturalmente è fatto col basilico che prendiamo dai contadini. Per cui sono tutti i prodotti locali prettamente? Sì, prettamente sì. Benissimo. Che tipo di clientele avete? Abbiamo una clientela molto varia. Abbiamo famiglie con bambini, piccoli, anziani che vengono dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia, qua vicino. Ecco. Avete anche lo stabilimento balneare che è proprio qua di fronte, che accoglie sia i clienti degli hotel, ma anche persone esterne. Perfetto. Allora Stefano, vogliamo dare i dati per potervi contattare, eventualmente prenotare una vacanza? Allora, il nostro sito è www.hcaldana.com, ci trovate anche su Facebook e su Instagram, basta cercare Caldana Hotel. Benissimo. Allora, ringraziamo Stefano Caldana per averci concesso questi minuti di intervista. da Pietraligure è tutto, a voi studio. Buona giornata.